carletto come stai senti ho dimenticato il pomelo a casa non puoi portarlo in ufficio si è sul comodino si non riesce a portarlo tu hai dei problemi seri sei cinque minuti non lo puoi portare in ufficio grazie perché ora ti aspetto ti prego portamelo carletto me lo sono dimenticato ma non scherzare ma penso che te lo porto c'è tra mila cosa devo fare ma qui devo andare a milano è importante che ci sia anche il pomelo sì certo vabbè niente dai metti in un frigo magari che dura di più un buon ora che fai un disco